Questo referendum mi illude gli italiani che votando sì sceglieranno di aumentare all'improvviso la quota di energie rinnovabili nel nostro paese e di ridurre le fonti fossili. Peraltro parliamo soprattutto di gas naturale, che è una fonte pulita, è la migliore tra le fonti fossili. Si parlava della Germania, la Germania ha una quota enorme ancora di carbone ed è un vero problema, noi questo problema non lo abbiamo. Da anni, grazie all'Italia di Enrico Mattei, che da due pozzanghere di gas si è inventato una tecnologia che esportiamo, che ci ha fatto diventare una potenza mondiale. Dobbiamo dire la verità agli italiani, se voteranno sì a questo referendum inutile e dannoso, non avremo più rinnovabili all'improvviso, avremo semplicemente maggiore importazione di gas naturale e di petrolio da paesi come la Libia, l'Algeria, l'Arabia Saudita, la Russia, insomma paesi che nello scacchiere internazionale ci pongono molti problemi. E dai quali finiremo per dipendere ancora di più di quanto dipendiamo oggi. La transizione va fatta, le fonti rinnovabili sono il futuro, ma non dobbiamo illudire gli italiani che questo possa avvenire all'improvviso. Se questo referendum passasse da qui a cinque anni, il 75% di ciò che produciamo entro le 12 miglia andrebbe perso. 11.000 posti di lavoro sono a rischio, sono italiani che vivono, lavorano. C'è un PIL in più di 750 milioni di euro all'anno, si tratta di entrate fiscali importanti da investire anche in ricerca, anche in innovazione, soprattutto nell'innovazione sulle energie rinnovabili. Peraltro, rinnovabili vere, non quelle inefficienti che abbiamo visto fino adesso con sussiti bagati dai consumatori nella loro bolletta. Allora, il punto è questo. La semplifico. È come se i promotori del referendum stessero dicendo agli italiani siete d'accordo sulla riduzione dell'inquinamento nelle nostre città, sulla riduzione degli incidenti stradali, sulla riduzione del parco automobili? Sì. Allora la soluzione è chiudere lo stabilimento Fiat di Melfi, di Pomigliano o di Mirafiori. Non è quella la soluzione. Per ridurre il barco auto, per ridurre il parco automobili, probabilmente bisogna investire su nuovi siti di consumo, su nuove tecnologie, su automobili meno inquinanti. La transizione è importante, ma in questa transizione non riduciamo la produzione nazionale di gas naturale. Il referendum è stato chiesto dai consigli regionali, non dai presidenti. Quindi io in realtà sto eseguendo degli ordini ricevuti dall'organo della sovranità e mi sto esponendo soprattutto per incoerenza col programma di governo e con la deliberazione del Consiglio regionale della Puglia. Però ci crede molto, no? Non è che perché l'ha detto il Consiglio. Ci credo perché il 17 di aprile bisogna andare a buttare fuori la lobby dei petrolieri dal Mise, adesso i telespettatori sanno che cos'è, ma soprattutto bisogna evitare l'ultimo regalo concepito in quel ministero. Perché quando noi abbiamo fatto la richiesta di referendum il governo si è spaventato e quindi si è dovuto ingoiare cinque quesiti referendari per evitare che fosse un plebiscito contro i petrolieri che, ripeto, sono molto vicini al governo e il governo si è spaventato. È rimasto però un solo quesito, un quesito micidiale perché sostanzialmente elimina il termine massimo per lo sfruttamento dei pozzi di petrolio. Significa che questi signori, gli stessi amici, diciamo, del ministero, non hanno più l'incubo della scadenza del termine in dialettica con le regioni e con il governo per stabilire se andare avanti o se il pozzo è esaurito, ma possono dire che loro vanno avanti, così non devono spendere le ingenti somme che devono essere messe da parte man mano che il pozzo viene coltivato, man mano che il petrolio e il gas viene estratto, proprio per fare le operazioni di chiusura. Un altro regalone concepito sempre da quel ministero, sempre presente la Guidi, nell'intervallo di tempo tra il referendum e la legge di stabilità, concepito con una straordinaria abilità in favore di pochi contro i tutti. Ecco, questa è l'operazione sconvolgente che è avvenuta e che noi il 17 di aprile dobbiamo spazzare via perché si governa nell'interesse di tutti, non nell'interesse di pochi. Allora, abbiamo capito due cose. La prima è che non sarà Michele Emiliano il nuovo ministro dello sviluppo economico. Penso non c'è dubbio, non è in linea come si direbbe, come si sarebbe detto una volta. Sono il presidente della Puglia, sono impegnato per cinque anni. Vabbè, ma si possono fare delle scelte anche a volte dolorose, dirimenti, potrebbe essere interessante. Teoricamente direbbe di no. È troppo importante fare il presidente della propria regione. È giusto così. L'altra cosa che si è capita è che la battaglia per il sì trae molta linfa, molta spinta da queste cose che stanno succedendo e che sono successe. Zaletti, temete questo? Non è un segreto che anche voi, sia come esponenti del governo, sia come scelta civica, siate sulla linea del far andare buco il referendum, cioè non facendo arrivare il quorum al 50% più un elettore indispensabile perché il referendum sia valido. Tutti pensano, lo dico cari telespettatori perché siamo tra gente matura, tutti sanno che questo tipo di referendum è quasi sempre, se si arriva oltre il 50%, cioè se il referendum è valido vincono i sì perché la spinta maggiore è quella di andare al voto per cambiare le cose, non per conservare. È quasi sempre quando non si è raggiunto il quorum è perché chi aveva interesse che il referendum non passasse ha ritenuto più opportuno cavalcare la linea della non partecipazione al voto. Su referendum ovviamente in cui l'opinione pubblica è divisa. Quando nel 91 Craxi provò a dire di andare al mare si ritrovò solo con l'ombrellone perché tutti andarono a votare perché la cosa era molto sentita proprio per il cambiamento politico istituzionale in atto. Zanetti, quindi a questo punto siete preoccupati? Tutta questa vicenda rischia dal vostro punto di vista di riempire un po' i seggi elettorali? Guardi, intanto come se mi dice come scelta civica anche noi abbiamo al nostro interno alcune posizioni differenziate, ci sono alcuni di noi che sono più propensi a considerare questo referendum opportuno e importante in termini di risultato. Non arriviamo devo dire ai livelli di casino che ci sta regalando il PD. Anche oggi abbiamo ascoltato delle legittime posizioni da parte di un presidente di regione che è di quel partito che è stato critico nei confronti di un governo che ha trazione di maggioranza PD con una foga devo dire degna di un rappresentante dell'opposizione. Legittimo però onestamente la cosa un po' mi infastidisce almeno quanto trovo invece naturale interloquire in termini frizzanti con un rappresentante del Movimento 5 Stelle come l'onorevole Di Stefano. Io penso e la maggioranza sicuramente anche di noi come scelta civica pensa che il referendum non ha nello specifico tutti quegli obiettivi che venivano prima ricordati, ma ha come specifico obiettivo quello di dire se relativamente alle stazioni che sono già in essere si debba o non si debba prevedere che vadano avanti fino all'esaurimento del giacimento. Noi pensiamo che il governo non perché obbligato ma perché ha ritenuto di farlo in una positiva interlocuzione che dovrebbe invece rallegrare a mio avviso le regioni proponenti abbia già fatto delle scelte importanti che dimostrano come non è affatto vero che viviamo con l'idea fissa del petrolio, cosa che sarebbe proprio sbagliata, prevedendo ad esempio che nelle 12 miglia marine non sia possibile in futuro attivare alcunché di nuovo su questo fronte. Certo che invece, mi ricollego quello che dicevo prima, ti ritrovi una risorsa perché buttarla via, certo che invece dove ci sono degli impianti che stanno funzionando, che hanno la migliore tecnologia europea che tutti ci riconoscono, che sono inquadrati con le regole più stringenti e più attente e più proprio vincolanti dal punto di vista ambientalistico rispetto alle altre normative europee, perché addirittura dobbiamo andare a smantellare quelli, perché dobbiamo andare a smantellare quelli, fermo restando che abbiamo con assoluta convinzione detto altre cose su questo fronte e non se ne fanno, perché? Perché è assolutamente fondamentale puntare anche e molto e sempre più in chiave prospettica sull'energia rinnovabile. Abbiamo mandato il nostro Gui Chiappaventi... Posso dire una cosa rapidissimamente? Volevo dire che io non rappresento il PD qui, io qui rappresento i pugliesi perché sono un rappresentante istituzionale, il mio partito è importante ma molto meno delle istituzioni che io rappresento. Secondo, è completamente falso che la normativa precedente, il regalo che il Mise ha concepito con riferimento ai pozzi e ai lander, cioè quelli che non hanno più termine, perché in precedenza c'era una norma che consentiva lo sfruttamento della fase finale dei pozzi di 5 anni in 5 anni nella fase finale e si arrivava alla fine ma in modo controllato. Questo è un regalino per consentire agli amici del Mise di non decidere loro quando chiudere un pozzo e di quando spendere i soldi che si sono messi da parte per la chiusura. Una cosa vergognosa anche questa. Scusate l'interruzione. Siamo qui per discutere e per acquisire elementi utili, anche questa è stata un'opinione interessante da ascoltare. Stavo dicendo che abbiamo mandato il nostro guicchiappaventi a rischio di mal di mare a vedere sul campo, ma in questo caso sull'onda, da vicino l'oggetto del contendere. Non è solo una storia di gas contro energie rinnovabili e biocarburanti e di petrolieri e lobbisti contro ambientalisti, quella delle trivelle di Ravenna. Ci sono dentro anche pescatori di cozze e sommozzatori, ingegneri e operai, imprenditori balneari e piadinari. Personalmente non mi sento un inquinatore. La nostra famiglia, prima ancora i miei genitori appunto hanno fondato questa azienda nel 62 con un pescherezzo e hanno sempre collaborato con le oil company. Non mi sento un inquinatore, assolutamente. Estraiamo da queste piattaforme, da questa piattaforma che abbiamo alle nostre spalle, solo gas. Quindi non esisterà mai che una chiazza di olio raggiunga le nostre coste. Gianni Bambini è figlio di un pescatore che negli anni 60, quando l'Agip cominciò a bucare il mare Adriatico per restare il metano, riconvertì la sua barca e cominciò a portare i palombari vicino alle piattaforme. Adesso l'impresa di trasporti marittimi Bambini ha 180 dipendenti. Lunedì scorso il signor Gianni ne ha mandati a casa più di 20 perché dice che solo lo spettro del referendum ha bloccato gli investimenti. Soldi ne giravano già pochi e adesso se dovesse passare sarebbe una catastrofe per tutto il settore. La Ravenna è un polo importante per l'attività offshore. Noi abbiamo circa 7.000 persone, 6.700 per esattezza nel censimento che abbiamo fatto giugno nello scorso anno. Molte di queste persone lavorano nella manutenzione, nell'attività, nelle piattaforme offshore. Noi abbiamo calcolato che se si interrompesse la produzione entro le 12 miglia, noi avremmo una ricaduta di circa 2.000 persone che vengono occupate attualmente e che perderebbero il posto di lavoro. Nel cantiere Rosetti Marino, uno dei più grandi d'Italia, si producono piattaforme da spedire fino al mare del nord o in Kazakistan. Ma la ditta si occupa anche della manutenzione delle trivele in Adriatico e la fine delle concessioni nelle acque territoriali sarebbe un colpo per il fatturato e ovviamente per il personale. Ma a me francamente il referendum non mi spaventa. Non è che sono molto preoccupato per me, in quanto io ormai qualche anno raggiungo la pensione. Sono preoccupato per i giovani, tutto il settore che gira attorno a noi, perché stiamo parlando di migliaia di posti di lavoro, non centinaia, migliaia di posti di lavoro. Tutto un indotto, tutto un insieme che prende dai tecnici, alberghi, hotel, barche che vanno su e giù per il mare, per servizio di piattaforme, elicottero, tutte queste cose qui. Tante persone come me saranno costrette o a cambiare lavoro o a spostarsi all'estero, o comunque lontano dalla famiglia o addirittura perdere il lavoro e in questo periodo di crisi in cui è molto difficile trovare lavoro si tramuterebbe in problemi anche a livello familiare. Il vicepresidente, l'ingegner Silvestroni, gira con un foglio in mano. Dice che il metano dell'Adriatico è orotrasparente e ripete le percentuali del gas. La combustione del gas naturale rispetto alla combustione di altri combustibili, fossili, ci sono zero particolati, zero ossidi di azoto, una riduzione del 25% di anidride carbonica e una riduzione dell'80% degli ossidi di zolfo. In più, se si sversa, non inquina perché evapora, è trasparente, inodore, in sapore. È il nostro tesoro dell'Adriatico. Un incidente però è sempre possibile, come la sera del 28 settembre 1965 sulla piattaforma Paguro. Un braccio buca un pozzo di gas a pressione elevatissima. Fuoriesce prima fango e poi metano, poi il giorno dopo scoppia un incendio. Così i giornali dell'epoca raccontavano il disastro. Le lingue di fuoco che si levano a parecchie decine di metri di altezza hanno illuminato il mare con lampi giallastri, tingendo il cielo di bagliori allucinanti, distinguibili fino a una distanza di 40 chilometri. Si calcola che almeno 100 metri cubi di metano ogni 24 ore vadano distrutti nel rogo. Attorno alle fiamme il mare ribolle e nessuno può avvicinarsi. Muoiono in tre, un geologo, un elettricista e un tecnico. Greenpeace, mercoledì scorso a Ravenna, ha assaltato una piattaforma. Gli attivisti hanno presentato un rapporto in procura. Citano dati dell'ISPRA in cui si dice che le cozze della zona sono cariche di metalli pesanti, mercurio, cadmio, selenio e zinco e che la concentrazione di idrocarburi policiclici aromatici è più alta che negli altri mitili in un campione su tre. Questa è la piattaforma Agostino B, una delle quasi 90 operanti nei mari italiani tra la costa e le 12 miglia. E' qui dal 1971, è deserta, non ci sono lavoratori a bordo perché queste piattaforme sono controllate da remoto. Produce pochissimo, estrae un quindicesimo del gas che estraeva nel primo periodo di funzionamento. I sedimenti e le cozze raccolti presso questa piattaforma sono pieni di idrocarburi e di metalli pesanti in concentrazione oltre i limiti di legge. Le cozze di Ravenna crescono direttamente sulle basi delle piattaforme. L'uscita di Greenpeace ha fatto venire il sangue agli occhi agli allevatori dei Molluschi che spiegano che il loro prodotto è di qualità assoluta, tanto da costare in media il 30% di più, amatissimo perfino a Napoli, dove, dicono, se ne intendono. Sventolano un parere del servizio sanitario regionale dell'Emilia Romagna in cui c'è scritto che le cozze vengono analizzate ogni 15 giorni dalla ASL e che nel 2015 un solo campione pescato aveva livelli vietati dalla legge. Queste sono le cozze di piattaforme. Straordinario prodotto, testato dall'ASL ogni 15 giorni nei laboratori ufficiali ed è un prodotto di eccezionale qualità. Qui ci sono due cooperative con 8 imbarcazioni, 50 addetti e il loro mestiere da 50 anni è raccogliere questo prezioso prodotto. Cooperative di allevatori di cozze. Esatto, che raccolgono questo prezioso prodotto che sono le cozze ricercate nei migliori mercati e ristoranti italiani. Lei dice se tolgono le piattaforme e questi non lavorano più. È ovvio che queste, se vengono demolite, si interrompe questo circuito delle piattaforme, non avremo più metano come ne abbiamo bisogno, dobbiamo importarlo dall'estero e soprattutto non avremo più il lavoro per queste ma anche per altre migliaia di operatori altamente qualificati che attorno alle piattaforme, in termini indotto, le imbarcazioni, il personale tecnico. Il lido di Dante a Ravenna sta scomparendo. Il mare si mangia due centimetri di costa all'anno e dall'84 al 2011, in meno di 30 anni il fenomeno della subsidenza, l'erosione della costa, ha fatto sparire 45 centimetri di spiaggia. Dipende dalle attività umane e soprattutto dalle estrazioni di gas e di acqua in mare, denunciano comitati cittadini e ambientalisti, riportando studi e analisi di prim'ordine. Dal bagno Smeraldo il panorama affaccia su due piattaforme. L'angela Angelina, che sta a soli due chilometri di distanza, pesca gas da 14 pozzi e recentemente la sua concessione è stata portata fino al 2027. Sergio Tarroni gestisce lo stabilimento dal 1981. Praticamente ce l'ho in casa, essendo un miglio marino, secondo me, io non sono un esperto. La prima è un paio di chilometri? Praticamente sono a un chilometro e 850 metri. L'altra è leggermente più spostata. Io sono qui da 35 anni e da 35 anni la spiaggia, nonostante siano stati fatti degli interventi di ripassimento, si sono fatte delle scogliere però soffolte, la spiaggia non è cresciuta. Anzi vi dirò che dalla parte... Qui ci saranno 10 metri di spiaggia? 10 metri di spiaggia. La concessione dell'81 com'era? Era 40 metri. Se diversamente ci spostiamo... Prima c'erano 40 metri di spiaggia? Mi stai dicendo che si arriva? Anche di più, anche di più, qualche metro in più. Tant'è che io avevo tre file di ombrelloni davanti, in più c'era il bagnosiuga, cioè c'era una bella spiaggia. Lei le piattaforme non le vuole? Assolutamente no. Io nella mia grande ignoranza penso che le piattaforme così vicino riva, lo sottolineo, così vicino riva, non diono un beneficio. Ballano almeno 2000 posti di lavoro a Ravenna però? Io lo so, questa è una cosa che mi dispiace, però se io facessi un censimento di tutte le persone che abbiamo perso noi in tutte le concessioni che sono sulla costa di Ravenna, io penso che qualche centinaio di persone l'abbiamo persa anche noi, perché la spiaggia si era impicciolita e quindi meno dipendenti abbiamo dovuto assumere. Il nostro chiapaventi ci ha mostrato tutti gli aspetti, le contraddizioni e anche questi sono conflitti di interessi virtuosi, perché sono conflitti di interesse tra tutta gente che lavora, qualcuno lavorerebbe, qualcun altro no e il problema è proprio questo, che poi un paese dovrebbe avere delle scelte di fondo e si sa che sono quelle, sia le rinnovabili oppure sia il nucleare, perfino. Sono alcuni paesi che sono andati avanti con quelle scelte ma almeno si sa che quella è la strada. Qui ci si trova comunque purtroppo in un conflitto, Zanetti comincia da lei, in un conflitto che lascerà comunque sul campo dei posti di lavoro. Comunque vadano le cose. Guardi, il servizio che tra l'altro ho apprezzato in modo particolare perché diversamente da come accade troppo spesso non aveva una tesi precostituita da portare avanti ma ha ottimamente esposto i due diversi punti di vista sul campo. Ecco, proprio da quel servizio emerge con chiarezza come non è una questione di conflitti di interesse ma è ovviamente una questione in quei casi di interessi particolari, di settori, di punti di vista legittimamente particolaristici. Il compito della politica però è proprio quello alla fine, cercare di fare una sintesi tra esigenze contrapposte e di farle non partendo dalla volontà di premiare alcuni a discapito di altri perché allora lì sì che scattano i veri conflitti di interessi ma di farlo sulla base di un'analisi complessiva. Ora, io credo che se noi oggi avessimo in testa di andare a continuare a moltiplicare la foratura delle nostre coste staremmo facendo qualcosa di folle. Ma non è di questo che stiamo parlando, posto che questa cosa non accadrà. Stiamo parlando dell'opportunità o meno di andare a completare in modo pieno l'utilizzo dei giacimenti sui quali ci sono già degli impianti che ribadisco sono all'avanguardia in Europa e con norme ambientali particolarmente restrittive. È opportuno o non è opportuno fare questo mentre per il resto non si va ancora a trivellare perché invece si deve puntare su altre energie? Secondo noi questa è un'impostazione più che razionale. Io dico che non dobbiamo fare l'errore che tra l'altro inganna i cittadini di mescolare conflitto di interesse con portatori di interesse. Il conflitto di interesse in questo caso è la politica, il portatore di interesse è chi lavora. Il problema è quando la politica prende in giro, come in questo caso, i portatori di interesse perché è inutile continuare a raccontare agli italiani che con le trivelle sarà lavoro per altri 50 anni con l'ILVA sarà lavoro per altri 50 anni. Non è così. E allora un governo serio che ha una visione di lungo periodo dice che noi da ora a 50 anni dobbiamo convertire tutte le acciaierie producendo un'altra cosa, tutti i pozzi di petrolio per le energie innovabili. Ribadisco, c'è un dato che non lo invento io, sono dati verificabili. Un miliardo speso in petrolio, 700 posti di lavoro. Un miliardo speso in energie innovabili, 17.000 posti di lavoro. Questo è un governo, non l'avevo definito scherzando, un governo fossile. C'è un governo che ha una leadership, anche giovane, ma che pensa come pensavano 50 anni fa. E allora, i dati di Greenpeace, ad esempio, sono dati che sono preoccupanti. Possiamo pensare a un paese che ha 7.000 km di coste, che è un'eccellenza riconosciuta da tutto il mondo, sia per il turismo che per l'enogastronomia, di avere delle cozze inquinate e una spiaggia inutilizzabile. Possiamo pensare a questo. Fra 50 anni, con questa logica vetusta della politica, scompare il business italiano vero, che è turismo ed enogastronomia. Però avremo delle bellissime trivelle a 12 miglia, quelle che vuole Renzi. Io credo che sia un modello malato, totalmente malato. Quante sono le trivelle? Le trivelle sono una dozzina, ma non è questo il punto. Il punto è che è il modello che è sbagliato. Se tu continui a investire sulle trivelle, anche soltanto sul mantenerle ancora, non investi sul resto. E Zanetti dovrebbe sapere, visto che è al governo, che io non ho visto in tre anni un solo provvedimento per le rinnovabili. Non l'ho visto. Che diceva Zanetti? No, dicevo che vorrei fosse chiaro che noi non stiamo votando una cosa per dire che continuiamo a investire sulle trivelle. Stiamo votando una cosa per decidere se smantellare investimenti già esistenti. Cosa che invece non è francamente opportuna. Esattamente come non lo sarebbe continuare a investire sulle trivelle. Questi sono i termini della questione. Cioè non bisogna aumentare le trivelle, ma non bisogna toglierle anzitempo perché sarebbe un arachiri industriale. Questa è la sostanza. Non vale la pena. Non è che la colga, stavo riassumendo. Da 70 stanno lì, ne hanno avuto tempo per modificare il progetto imprenditoriale? Sta per prendere la parola, lo sento con chiarezza, il governatore Emiliano. Emiliano. Allora, innanzitutto il 17 aprile andate a votare. Perché persino quello che dice Zanetti, cioè il fatto che non si può trivellare più nelle 12 miglia, è merito del referendum, non del governo. Il governo aveva con lo sblocca Italia e combinato con altre norme, consentito di trivellare nelle 12 miglia. Hanno fatto marcia indietro dopo il referendum. Secondo, nelle indagini di Potenza ci sono i funzionari, credo dell'ENI, ma adesso non vorrei dire una stupidaggine, che vanno a comprare le cozze in pescheria per sostituirle a quelle della piattaforma di Brindisi che erano inquinate. Quindi sono tutte balle. E' una balla che le piattaforme in funzione, con il petrolio e il gas che getta, vadano smantellate. E' una balla. La legge 9 del 91 consentiva, con controlli molto severi, di consentire la fine vita del giacimento, non facendola decidere ai petrolieri, questo è il vergognoso regalo, ma in dialettica con le regioni ed il governo. Un messaggio positivo, andare a votare il 17 significa buttare fuori i petrolieri dal Mise e far rientrare l'idea di investire sulle energie rinnovabili. Immaginate che al Mise hanno eliminato gli incentivi sull'eolico e il fotovoltaico per favorire i petrolieri. Questa cosa era sbagliata. Dobbiamo cambiare politica energetica. Io credo che il messaggio per gli stessi sia abbastanza chiaro, ed è dare due segnali. Uno di prospettiva sociale, cioè pensare al nostro paese come un paese che va ancora sull'energia fossile e criminale nel 2016, e pensare invece di dare quindi un forte segnale verso le rinnovabili, quindi votandosi e bocciando questo progetto del governo, è invece un messaggio di speranza. Aggiungo che la scusa dell'impiego è penosa, perché ribadisco un dato che ho già dato più volte, un miliardo in fossile fanno 700 posti di lavoro, un miliardo in rinnovabili fanno 17.000 posti di lavoro, e anche un referendum politico, perché non dobbiamo negare il fatto che Renzi ha fatto la campagna peggiore che poteva fare, cioè quella del lavatemi le mani, non andate a votare, tanto ci penso io al progetto per l'Italia. Se Renzi pensa al progetto per le energie, come ha pensato tutto il resto, sarà un fallimento totale per il nostro paese. Allora diamo anche un messaggio politico a Renzi, ovvero il tuo progetto non ci piace, perché il tuo progetto è in mano alle lobby, e noi vogliamo dare un calcio nel sedere alle lobby, e riprenderci la politica e riprenderci il paese. I cittadini italiani sono molto, ma molto, superiori a livello di volontà e di etica rispetto a questo governo, e quindi credo che il 16 aprile sia un momento per dare questo segnale. Fuori le lobby, fuori il petrolio, andiamo verso un futuro migliore, che è quello sicuramente non fossile. Fermi lì, se no alla fine Emiliano vota nozze. Si vota sì comunque per votare. Ci sono gli altri elementi. Si vota sì. Chiarissimo la posizione, non dimentichiamo che il Movimento 5 Stelle, così come altre forze di opposizione, il Presidente del Parlamento, SEL, ma anche in parte la Lega e una parte di Forza Italia, sta sulla linea del sì. Così come anche tra le opposizioni ci sono molte parti che vanno verso l'altra direzione. Emiliano. Allora, siccome io l'appello l'ho già fatto, quello generale, ne faccio uno speciale per i compagni del mio partito. Fregatemene dell'indicazione di assenzione, che peraltro non è stata ancora consacrata in alcuna deliberazione del partito, fate gli uomini e le donne progressisti. Occupatevi il 17 di aprile di cambiare e di aiutare il segretario del nostro partito, che ha bisogno di noi il 17 di aprile, a tornare a essere il capo di un partito della sinistra progressista. Insegnateli e reinsegnateli che cosa sono le energie rinnovabili. Spiegateli che il passaggio dal Novecento al futuro passa da nuove tecnologie. E' andato in Messico il nostro segretario a inaugurare una centrale meravigliosa, eolico e solare fatta dall'Enel. Ecco, ricominciamo a investire. Restituiamo incentivi alle energie rinnovabili. Emiliano Rennevada, lei che si chiama come Zapata, questa serata con il sorriso sulle labbra, e non in maniera cupa, preoccupandoci di essere iscritti al PD. Perché è un orgoglio essere iscritti al PD, anche quando il nostro segretario sbaglia. Grazie Emiliano. Allora, Zanetti, lei ha il vantaggio dell'ultima parola, sapendo che però ha lo svantaggio che ha sentito due voci molto difformi tra di loro per collocazione, però che approdano alla stessa indicazione di voto. Guardi, io direi che bisogna assolutamente andare a votare sia un referendum che dica che bisogna investire sulle energie rinnovabili, che dica che non si deve continuare a trivellare il nostro mare. Il problema è che il 17 non troverete questo tipo di referendum. Troverete un referendum che semplicemente dice che ciò che già esiste continua peraltro a esistere, con l'unica differenza che se votate sì ogni tott'anni le regioni devono ridare la concessione, cosa che poi puntualmente farebbero nell'istante in cui ci sono quegli elementi di controllo che comunque naturalmente continuano a esserci tal quali anche senza la periodica atto di concessione regionale. E votando appunto sì, ottenete questo cioè non cambia nella sostanza nulla create un presupposto che non ha nulla a che vedere con gli obiettivi per cui vi dicono che è necessario andare a esprimere questo voto. Non è così che si utilizzano i referendum che sono un istituto forte e importante per cui, a mio avviso, siccome non è quello, a nostro avviso, non è quello l'oggetto di questo referendum, non è con questa tipologia di approccio con un sì che non ha nulla a che vedere che si danno questo tipo di risposte. E quindi, dal nostro punto di vista, questo referendum non è opportuno che veda prevalere i sì.